e allacciatevi di sicurezza sulla strada di linea, dentro la stessa roba, non è che cambia molto ti è piaciuto? Molto, dovrei direi che anche l'atterraggio è bello da un punto di vista proprio panoramico e scenografico viro a sinistra, qui faccio delle virate per perdere quota andiamo sull'aeroporto, quando siano traffici, registriamo la posizione degli aeromobili a terra parcheggiati, oppure sappiamo che sono lì e che si spostano, sappiamo da dove vanno e se vogliono sparci passate in diagosta e in pronotazione con carrello fiso e ora passate in sei fiso sono due su un barchino tutto bene? molto bene questo da parte per tenerlo in equilibrio si, va bene una cosa abbastanza concordata grazie 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 grazie